buongiorno a tutti allora abbiamo appurato che era calcio di rigore cedo alla violenza ma tanto non serve a niente polemiche inutili la partita è finita è omologata uno a uno l'arbitro ha sbagliato adesso si farà un mesetto di vacanza sia lui che l'altro sia massa che che arbitrava massa che ralvare l'altro tanto cioè ripeto io l'ho detto in tempi non sospetti sui calci di rigore ci sono situazioni in cui se lo dai sbagli se non lo dai sbagli lo stesso poi questo sembra più netto degli altri però poi hanno oggi ho ripreso nell'intervista al buon Marelli no e il buon Marelli cosa diceva non è vero che ci ha messo 57 secondi poi adesso spiegatemi perché con l'inter vengono fuori tutte le perché siccome ci hanno fatto un favore una volta ogni morte di papa adesso il papa si starà toccando le balle se ce le ha perché ho detto non so quali le due però visto che purtroppo hanno anche una certa età non si sa mai comunque stavo dicendo una volta ogni tanto che ci fanno una botta de culo le favore perché se vogliamo ricordare fallo di petto il fallo di petto trasformato in calcio di rigore il fallo di quadrado trasformato in calcio di rigore e tra l'altro a quadrado non gli hanno neanche dato una giornata disqualifica per la simulazione assolutamente poi malauguratamente oggi il buon Matteo mio follower che è venuto a trovarmi mi ha fatto finire nel gruppo degli giuventini per rispondere alla sua domanda sono andato un attimo e lì veramente ragazzi l'altro prima ho fatto cioè io purtroppo quando c'è stato l'esel c'ero c'ero ed è stata una cosa brutta 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 però francamente quando leggo certe cose che scrivono gli giuventini mi verrebbe voglia di fargli la classica domanda che fece philippe l'erroir quello che ha fatto janez de gomera no in un film intitolato windsor il vento delle mani c'era la moglie del commenda che era una scassa umbrella come dicono a napoli non di prima categoria proprio gli danno l'oscar della scassa umbrella e al che lui gli fa la domanda c'era lei sul titanic e lei gli risponde non ero ancora nata un'occasione persa ecco a certi giuventini verrebbe voglia di dirgli era lei se lei e ti risponde magari non ero ancora nato e c'è un'occasione persa perché veramente certi personaggi ti lasciano basito e purtroppo matteo che è simpatico è uno juventino simpatico per quanto sia tifoso mi ha fatto finire lì per rispondere alla domanda perché ho detto che non era non mi sembrava calcio di rigore ripeto io l'ho vista in presa diretta col mega schermo di 55 forse 60 pollici quindi è grosso c'è il pallone qua c'è il pallone qua c'è il piede di belotti e qua c'è il piede di di coso vedendolo così sembra che vedendolo con un'altra prospettiva invece si vede che prende la gamba e non il pallone vedendolo nell'altra prospettiva ancora si vede che prende tutto assieme quindi ragazzi miei venire a dire il rigore nettissimo come ho letto cioè io capisco che dopo il rigore che hanno dato a quadrato l'anno scorso basta che uno cade in aria calcio di rigore perché se quello era rigore lo sono tutti basta che uno entra in aria inciampa sul pallone calcio di rigore perché se lo era quello avete perfettamente ragione questo è rigorissimo quello là che era inesistente l'hanno fischiato non hanno detto niente non l'hanno neanche guardato figurati questo qua però guardate la differenza o il fallo di tetta quelle sono certezze lì possiamo stare a discutere ma quelle sono certezze invece ci hanno dato col calcio di rigore poi ripeto come vi ripeto mille volte un'altra che è finita la partita finita io capisco gli giuventini che ce l'hanno su perché loro quando capita loro aprono le ma perché ormai ci sono vi siete fatti l'anomea ma non adesso non nel 2006 con calciopoli dagli anni 80 dagli anni 70 ci sono i film parodia di abbattanto anno dell 82 che li che litiga col fiorentino e romanista che gli rinfacciano i due scudetti che si sono babbati i fiorentini cagliari fiorentina 0 a 0 gol annullati rigori inodati eccetera eccetera la juventus a catanzaro che vince un a 0 rigore di bredi e vince lo scudetto la fiorentina che poteva fare lo spareggio con la juve sarebbe stato anche bello gli annullano gol per fuorigioco che forse non c'era c'è il gol di famoso gol di turone che ancora adesso ne parlano quindi la colpa non è mica nostra vi siete fatti l'anomea voi e quindi per quello ogni volta che succede qualcosa vi rompono le balle noi non ce l'abbiamo l'anomea noi c'abbiamo la sfiga addosso anche se la squadra più sfigata il bologna a quanto pare che ha preso 17 tra pali tra pali e traverse due ultimi con la fiorentina veramente sfigatissimi comunque non era di questo che vi volevo parlare ma ci siamo c'è un problema ragazzi miei perché i due arbitri che erano a torino sia quello al var che l'altro fermati per quattro cinque settimane forse fino alla fine non si sa comunque per un mese non arbitrano più dove eri che era l'altro arbitro che poteva essere mandato ad arbitrare inter juve fermato anche lui per il pallo di braccio di ceccherini che ha dato il giallo cioè io vorrei capire come mai un arbitro da un giallo per un normale tocco di braccio a metà campo che con la palla che gli rimbalza addosso che ne succedono 3500 perché è il verona poi quando capita certe squadre di cui non faccio il nome il giocatore già monito prende la palla con l'abbraccio a metà campo faccio finta di niente quando è successo all'inter in un napoli inter con alvarez siamo rimasti in dieci perché la palla gli è andata addosso cioè i bracci leggermente larga ma non è che è andato apposta è andato in contrasto sul giocatore del napoli la palla gli è rimbalzata dopo è ripartito in contropiede l'arbitro ha fischiato era già monito altro giallo inter in dieci a napoli questo è lì a metà campo a farsi fatti suoi giallo era già monito verona in dieci e quindi anche doveri altro errore e quindi il problema è questo ragazzi miei restano due arbitri per il derby d'italia uno è orsato che è uno dei migliori arbitri io l'ho continuato a dire a parte la partita che ha fatto tre anni fa con l'inter e lo spiegate nei video andate lì a vedere è sempre una questione psicologica lui e rocchi rocchi e lui lui e rocchi e lui che si giocavano la palma di miglior arbitro di serie a la domenica prima napoli juve 0-1 rocchi fa una partita della madonna non sbaglia nulla 8 e quindi orsato voleva fare lo stesso no un po come le pattinatrici e te presente le pattinatrici quella prima di te che si sta giocando la vittoria fa tutto benissimo quindi l'altra pattinatrice che deve scendere in pista dopo quella lì sa che dovrà fare il top del top del top se vuole vincere se no la medaglia d'oro non la vince quindi orsato quando l'hanno disegnato per interview è entrato in campo voleva fare bella figura pronti via fa subito la puttanata di non buttare fuori subito vessino deve andare al vara per vedere se il giallo non è giallo è rosso da quel momento lì perde completamente la testa perché ha capito che purtroppo quello è già un errore che inficia la sua la sua gara diciamo il suo arbitrare quindi non può più prendere otto ma se va bene può prendere sette sei e mezzo sei e quindi non non riesce a stare in pari con quello con l'altro perde completamente la trebisonda ne fa di ogni lasciando perdere poi la non espulsione di pianic che lì non si è capita non si è ancora capito perché poi naturalmente si nasconde perché c'è di mezzo non diciamo niente poi stavolta chissà come mai il dialogo c'è e quindi qua ci siamo giocati quei due arbitri lì orsato il momento sinta non gliela faranno più arbitrare poi a fine anno smette resta solo di bello se il prossimo weekend di bello fa una puttanata juventus inter dovremmo chiamare un arbitro ucraino visto che stiamo prendendo gli arbitri ucraini per arbitrare ha preso anche una ragazza ma una una signora arbitra andrà ad arbitrare una partita del campionato femminile un arbitro ucraina che mi sa che il juventus inter l'arbitrerà un arbitro ucraino perché appunto non c'è più nessuno non c'è più un arbitro che può arbitrare il juventus inter gli unici due che c'erano erano massa e doveri più appunto di bello e orsato due gli e pauperano gli cancellano gli dicono ciccini anche voi prendete il primo aereo andate ad arbitrare un po' a dubai per un mese state là poi tornate indietro e finite il campionato orsato non lo puoi mandare ad arbitrare juventus inter tra l'altro orsato a fine anno smette con la carriera quindi ti lascio immaginare cosa succederebbe se facesse puttanate apriti cielo l'ha fatto apposta perché tanto ormai va in pensione eccetera l'unico è di bello però se domenica di bello nell'arbitrare una partita fa la stessa puttanata di doveri di buttare fuori un giocatore per un fallo di braccio a metà campo abbastanza discutibile perché ci sta il fallo però cioè il giallo per cosa non ha fermato un'azione pericolosa era un tocco di braccio con la palla che gli rimbalza col braccio che era parallelo al corpo leggermente largo ma non è che era ha fatto il bago cioè lancio lungo puff per evitare di far segnare e quindi i ragazzi miei siamo juventus inter è a rischio non si sa chi la potrà arbitrare però resta solo di bello c'è solo a meno che non vuole rischiare un mariani o uno degli emergenti e poi si fa il segno della croce perché veramente se dovesse succedere il patatrac vi lascio immaginare vedremo vedremo ripeto rigore la partita è finita stare lì mi 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 poi la cosa triste quando entri io infatti i gruppi sono solo quelli che seguo sono solo inter inter nel cuore inter nel mondo inter live la scuola la cosa per cui io scrivo ma non vado sui quando mi mandano gli inviti per anti milan anti juve eccetera non ci vado perché io tifo l'inter e basta poi osservo do un parere come un altro che mi ha scritto lì non entrare nel merito ma chi sei sei un arbitro non sei un arbitro sei un nessuno qualsiasi io ho dato il mio parere per come l'ho vista lì se vi devo dire che è rigore ma sai che cazzo me ne frega tanto non l'ha dato ricordatevi che alla fine della partita siamo tutti dei marchesini del grillo che possono dire quel cazzo che vogliono perché tanto ormai la decisione è stata presa quindi qualsiasi cosa diciamo siamo liberi di dirla ma non serve a niente perché ormai la decisione è presa quindi anche se dici c'era il rigore e allora partita è finita 1 a 1 chiuso il discorso io capisco ripeto capisco gli juventini che tutte le volte avete rubato avete rubato ma è così è nella loro indole nella loro storia ripeto vi dicevo di quel mio amico che è nel gruppo tutti i tifosi che è un gruppo chiuso lui me lo dice chiaro e tondo io godo molto di più a vedere la juve che vince rubando che non la juve che vince perché merita perché mi dà un senso di onnipotenza che tu non riesci neanche a rendertene conto perché io sono io che non siete un cazzo e io rubo e voi state zitti e potete solo fare le chiacchiere da bar ma io rubo e sono contento questo è il suo pensiero tra l'altro il suo pensiero anche quello che squadre come sassuolo spezia salernitana genoa sandoria sono inutili tutte squadre inutili che non servono a niente campionato dovrebbero giocarlo in 5 6 squadre al massimo perché le altre sono tutte inutili squadre inutili le chiama le squadre inutili per lui esistono solo inter milan juve forse le due romane e forse il napoli le altre sono tutte squadre inutili anche la fiorentina inutile cos'è la fiorentina cosa mi rappresenta la fiorentina questo è il suo pensiero poi non so logicamente non tutti gli juventini sono così ma lui pur sentendosi una merdaccia perché lo dice spesso io sono una merdaccia ridendo e scherzando infatti gli faccio allora io tu fai la merdaccia io faccio il coglionazzo e rifacciamo fantozzi lui è così c'è poco da fare il signor antonio è così e quindi ragazzi miei dovete dovete accettare la situazione però venne andare a scrivere ladri ladri cioè l'arbitro ha sbagliato che cazzo centriamo noi non è che l'abbiamo pagato che poi figurati se l'inter paga paga gli arbitri cioè abbiamo la proprietà che è in cina che c'è tanti di quei problemi che metà bastano il presidente è un ragazzino appena uscito da harvard o quello che è cazzo paghiamo cazzo contiamo non abbiamo televisioni non abbiamo giornali non abbiamo una beata giovanna ma almeno quando quando scrivete le cose ragionate ogni tanto poi uno è andato a prendere andare a riprendermi facchetti le pastiglie di herrera io vorrei ricordare alla gente che non studia la storia del calcio che l'anno in cui c'erano le cosiddette pastiglie di herrera l'unica squadra dopata era il bologna che vinse lo scudetto poi si inventarono che non era vero che era il buono non erano le provette erano state manomesse eccetera eccetera e alla fine il bologna vinse allo spareggio meritandolo lo spareggio lo scudetto e ce lo ciucciò a noi ma quelli trovati dopati erano quelli del bologna quelli dell'inter non li hanno mai trovati dopati poi che herrera gli desse la pastiglietta può essere vero può essere falso ma solo diceva che la pastiglietta gli faceva venire il vomito tra l'altro quindi non so che aiuto potesse dare la pastiglietta di herrera e loro cercavano di non prenderla quindi però dopati se no li trovavano dopati non si hanno trovato quelli del bologna come mai quelli dell'inter non sono stati ah ma c'è il libro di ragazzi anche io so scrivere prendo uno di voi a caso metto che una persona mi ha raccontato per file per segno che questa persona ha fatto una determinata cosa brutta 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 io so scrivere sono abituato perché quando facevo politica essere ad antenna 3 mi arrivavano dei trafilettini di tre righe li trasformavo in un articolo di 150 parole quindi ti posso fare una bella storiellina su una determinata persona saputo da una persona che ormai non c'è più su un fatto avvenuto cinque anni e mezzo fa così almeno se c'è anche la prescrizione però sputtano completamente questa persona i libri si lasciano scrivere mio padre diceva sempre la carta si lascia scrivere e sulla carta puoi scrivere quel cazzo che vuoi e inventarti tutto quello che vuoi e per evitare le querele eccetera metti un sempre sentito dire ho saputo che ci davano delle pastiglie quella squadra lì gli davano delle pastiglie ma cosa con te non lo so e allora potevano essere anche mentine ah l'altro giorno ho visto uno che si faceva di anfetamina perché prendeva le pastiglie l'ho visto io che prendeva le pastiglie poi magari si stava mangiando una caramella per la gola però basta questo e facciamo come nel medioevo che bastava andare da quella lì non ha mangiato il maiale è un ebrea e subito la santa inquisizione interveniva e quella poverina anche se non lo era la torturavano talmente tanto che avrebbe detto anche che che si era ma che aveva fatto sesso col diavolo pur di non essere più torturato quindi ragazzi la carta si lascia scrivere quindi studiate la storia studiate non lasciate bla 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 ma un micio micio alle ai libercoli c'è la storia dei campionati che sono cose serie sono scritti andate sulle sul campionato andate a vedere e sapete le cose io quando sento queste cose qua così poi quando sento nominare male facchetti mi incazzo tra l'altro vorrei ricordare simpatici giuventini no che continuano ad attaccare facchetti e tutto quanto che il signor moggi a facchetti lo chiamava il pennellone diglielo al pennellone quando chiamava cannavaro per fargli fare il malato immaginario quindi era lì che lo perculava figurati se questo ah ma facchetti chiamava Bergamo l'unica volta che c'è una telefonata c'è una telefonata di Bergamo facchetti che questo gli dice anche chi è non aveva manco il numero di telefono memorizzato perché gli ha chiesto scusi chi è sono Bergamo ah buongiorno mi dica poi era facchetti che chiamava quell'altro che gli va a dire a Moratti che abbiamo una squadra scarsa squadra scarsa Recova Vieri Ronaldo Zamorano Ventola e Cruz squadra scarsa alla faccia del dupe alla faccia dupesci uno degli attacchi più forti del mondo nella storia del calcio però eravamo una squadra scarsa sorvogliamo va ragazzi comunque ripeto c'è il rischio che Juventus Inter lo arbitri un ucraino perché abbiamo finito gli arbitri non ce ne sono più attendibili ce li siamo giocati tutti resta solo Di Bello se Domenica Di Bello fa una puttanata sabato domenica lunedì quando quando ci saranno le prossime partite e il povero Rocchi che dovrebbe essere lui il disegnatore si mette nelle mani nei capelli che fortunatamente lui ha e dice adesso chi manda ad arbitrare Juventus Inter ci mando la signorina ucraina magari si comportano bene c'è una signorina fanno i bravi va bene ragazzoli ridendo e scorzando 22 minuti di video e ci vediamo alla prossima ciao Ciao